Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Aspetta, forse è rossetto sui denti No Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi parliamo di Sadie Corvi, ovvero Six of Crows di Leigh Bardugo Mi era piaciuta molto l'impostazione del video di Nevernight e quindi perché non farlo anche per questa serie che arriverà prestissimo in Italia Come penso sappiano anche ormai gli scovolini per pulire le pipe Io sono, madonna quante P ho messo, vabbè, comunque è la mia serie preferita Trovo che sia la serie per ragazzi più interessante, scritta bene, impostata in maniera originale che il mondo dello young adult e non solo Ci ha posto di fronte negli ultimi anni e quindi nonostante io sia molto molto di parte perché è una serie che amo, sono qua per fare esattamente la stessa cosa che avevo fatto per Nevernight quindi darvi un po' dei pareri sulla sua struttura, su ciò che funziona, ciò che magari non funziona che è poco però, vabbè e darvi un po' un parere generico in modo che possiate capire se è una serie che fa per voi e la risposta è sì oppure no però non vedo controindicazioni ma comunque a parte fare l'asina iniziamo inizio però prima di arrivare a, diciamo, il contesto quindi parlarvi del contesto, dei personaggi, delle tematiche che si affrontano in Seidicorvi della scrittura, eccetera partiamo dalle domande che io mi sento fare di continuo nonostante esista già un mio video al riguardo quindi Seidicorvi, ovvero Six of Crows e Crooked Kingdom che saranno presto, arriveranno prestissimi in Italia sono una serie che è ambientata nello stesso mondo della Grisha Trilogy che è una serie che è composta da Shadow and Bone, Ruin and Rising e Siege and Storm che è stato tradotto in Italia anni fa da PM, credo, vabbè con il primo titolo che è Tenebre e Ghiaccio poi è stata interrotta ma l'anno prossimo riuscirà tutta la serie nel 2020 avremo anche tutta la trilogy completamente ritradotta quindi è ambientata nello stesso mondo della Grisha Trilogy anche se ci troviamo in una parte diversa del territorio che è quello fittizio inventato da Leibardugo le storie però non sono correlate ovvero potete leggere tranquillamente Seidicorvi anche se non avete letto la Grisha Trilogy qualche però appunto io per esempio dico sempre io ho letto Seidicorvi la prima volta senza aver letto la trilogy libro pazzesco serie che mi è piaciuta serie ai tempi ancora non era uscito Crooked Kingdom serie che mi era piaciuta moltissimo e quindi insomma da lì mi sono buttata sulla trilogy perché ero esaltatissima ho letto la trilogy e poi ho letto Seidicorvi un po' perché chiaramente Seidicorvi a me piace nettamente di più della trilogia ma di quello parleremo più avanti in un altro video però devo dire che rileggere Seidicorvi dopo aver letto la trilogy è un'esperienza molto più ricca e su questo non ci può piovere quindi potete tranquillamente leggere Seidicorvi senza aver letto la Grisha non ci sono cose sostanziali ci sono dei ritorni di personaggi in Seidicorvi dalla Grisha ma che non hanno ruoli prevalenti sono ruoli molto molto marginali quindi fondamentalmente anche se non le riconoscete è la stessa cosa e soprattutto pur avendo la stessa ambientazione ci troviamo in due contesti molto diversi quindi leggete tranquillamente Seidicorvi anche se non avete letto la trilogy magari Seidicorvi vi far venire voglia di leggere la trilogy questo sarà problematico per altre cose però potete farlo tranquillamente oppure leggete il mio consiglio è leggete almeno il primo della trilogy giusto per avere la contestualizzazione e anche se non vi piace passate a Seidicorvi perché è il libro vabbè basta non siamo qua per fare la promo questo è un video serio quindi partiamo a fare le persone serie partiamo dal contesto vero in che mondo ci troviamo e quale è la trama il contesto è il seguente noi ci troviamo a Ketterdam che è una città che per tanti versi potrebbe assomigliare ad Amsterdam in un arco temporale che non è ben identificabile ci troviamo comunque in un mondo fittizio quindi non con riferimenti specifici a fatti ed eventi reali anche se l'ispirazione di tutto il contesto della Grisha quindi il mondo di Ravka il mondo di Kerch il mondo di Fjerdal il mondo di Novi Zem del Regno Schu insomma sono tutte cose che hanno forti ispirazioni con il mondo come noi lo conosciamo perché ad esempio Ravka che è un territorio che ha tantissimi rimandi alla Russia soprattutto alla Russia zarista di tipo zarista anche se però non c'è nulla di effettivo che richiama questi eventi però ci sono tutta una serie di elementi che noi ricolleghiamo a questa ambientazione e quindi per il lettore nonostante il world building sia molto ben costruito ha comunque questi accenni anche che richiamano una conoscenza che noi già abbiamo noi già sappiamo che quello è l'impostazione quindi abbiamo una serie di conoscenze pregresse su tutta l'ambientazione che troviamo ma prima di divagare nuovamente ci troviamo a Ketterdam che è una città che è famosa soprattutto per quello che si chiama The Barrel ovvero i bassi fondi la parte più marcia della città in questo luogo regnano spavaldi i dregs ovvero quella che noi potremmo chiamare la feccia che è una sorta di gang che è dedita al gioco d'azzardo alle bische clandestine a tutti gli affari loschi e si occupano anche di traffici illeciti anzi è bello dire dirty business anche se in italiano non renderà lo stesso modo però comunque e in pratica c'è Kat Sprecker che è un ragazzo molto giovane che però ha già ormai abilità che farebbero invidia a qualsiasi scaltro ladro o criminale che esista Katz tiene insieme tutti i dregs tiene insieme la baracca è una persona estremamente intelligente che gestisce tutti i traffici illeciti e che fa andare avanti tutte le attività nel sottofondo del barrel in città sta però arrivando una nuova minaccia ovvero sta circolando una sostanza sconosciuta che ovvero le persone che possiedono poteri magici li rende estremamente potenti amplifica i loro poteri e li rende controllabili al volere di chi gliele inietta perché diventa una sostanza che crea una fortissima dipendenza questa è la nuova minaccia che arriva e visto che sono tutti molto preoccupati per la circolazione di questa sostanza iniziano a indagare scoprendo che conoscono bene chi la può aver creata ed è tenuto prigioniero nella corte di Fierda ovvero nel grande nord quindi ci sono tanti interessi economici in gioco però coloro che guidano la città non possono di certo attaccare Fierda direttamente quindi si rivolgono a chi potrebbe fare il lavoro sporco per conto loro e quindi perché non affidare un'impresa incredibile come quella proprio di penetrare di nascosto dentro la corte Fierda ai drags perché non è una buona idea questo è chiaro ma soprattutto perché nessuno è disposto a farlo se non un pazzo come Cutsbreaker che mette insieme una squadra altrettanto improbabile però con tante abilità diverse e avere in comune solo l'essere una gang sgangherata fondamentalmente partono per la missione e da lì inizieranno tutte le nostre avventure che già in realtà sono avventure dalla pagina 1 allora non andrò oltre perché tutto ciò che dico oltre a questo è super spoiler e quindi buona avventura e buon divertimento partiamo da un presupposto per chi è per chi non è a chi si rivolge questa serie questa è una serie per ragazzi anche se piace tantissimo anche ai più adulti premesse da fare prima di leggere questo volume è che sicuramente siamo in un contesto dove la violenza è contemplata e oltre alla violenza vengono trattate tematiche abbastanza pesanti e molto personali perché tutti i personaggi devono superare un trauma tutti i personaggi sono reduci da un trauma grande o piccolo che sia soprattutto grande e devono imparare sia a convivere con questo trauma che a superarlo o comunque a trovare delle nuove ragioni per andare avanti e quindi questo implicherà la discussione su tematiche anche molto delicate però al contrario di altri volumi Le Bardugo riesce sempre a non strafare mai riesce sempre a rimanere nei confini di ciò che è rispettoso ciò che non può dar fastidio e per questo secondo me non ci sono trigger warning da fare chiaramente dobbiamo contestualizzare che questi ragazzi sono in un contesto che prevede la violenza sono una gang di scalmanati sono dei fuori legge sono dei criminali non siamo ad una lezione in un seminario e quindi sicuramente bisogna contestualizzare in questo modo per avere una visione di tutto c'è qua innanzitutto una cosa che secondo me va specificata che è anche uno delle cose che forse meno convince e se non viene sorpassata come chiave di lettura può creare problemi per la lettura di Sadie Corvi ovvero tutti i ragazzi sono molto giovani dai 15 fino ai 17 anni e leggendole non è credibile questa cosa nessuno di loro può avere 16 o 17 anni non è proprio contemplabile ma se voi superate quella fase lì rimarrà un libro meraviglioso a mio parere sono molto di parte cioè questo credo che sia un difettuccio che tra l'altro non è nemmeno richiamato nel corso della serie quindi se superate il fattore dell'età non avete problemi a parte queste premesse non ce ne sono altre perché fondamentalmente non ci sono avvisaglie da fare al lettore perché insomma è molto rispettosa è molto velata lei Bardugo pur trattando argomenti anche molto pesanti parliamo dello stile che è sicuramente la cosa che secondo me contraddistingue lei Bardugo e che è il suo punto forte lei Bardugo è bravissima in tanti aspetti della scrittura innanzitutto ha una fluidità veramente unica ha questo questa eleganza che accompagna sempre con ironia un'ironia molto pungente molto letteraria anche che è la cosa che amo di più di lei perché riesce sempre a non essere eccessiva però a risultare sempre originale tutto ciò che scrive è estremamente quotabile ogni singola frase che leggerete in sei di corvi è sicuramente frutto di un durissimo lavoro di revisione perché ogni parola sembra cesellata per essere incastonata prima o dopo un'altra è incredibile leggere qualcosa scritto da lei perché ha questo stile trascinante ha questo stile davvero elegante mai banale mai eccessivamente sopra le righe però comunque originale e quindi è sicuramente il suo punto forte in più Lei Bardugo ha questa capacità di ritrarre dipingere i personaggi le loro storie e soprattutto anche le loro difficoltà la loro psicologia in una maniera che non risulta mai banale mai retorica e dove ci mostra ogni volta ciò che i personaggi devono affrontare senza che ci venga raccontato ci mostra anche come evolvono come riescono a superarsi e lo fa con un'eleganza tale con una maniera davvero impeccabile che che è sicuramente l'aspetto che mi porta ad essere più legata a questa serie perché trovo molto originale e davvero raro riuscire a scrivere in questo modo non è facile ritrarre dei personaggi non è mai facile ritrarre dei personaggi legati a dei traumi a delle questioni anche pesanti in sospeso senza scadere mai nel retorico senza scadere mai nell'eccessivo e senza risultare troppo pesanti per il lettore quindi lei riesce a tenere in equilibrio tutto e io non posso chiamare tutto ciò che scrive quindi è veramente il motivo per cui secondo me vale la pena leggere 6 di Corvi al di là dei personaggi ma quelli arriviamo tra un attimo prima vorrei parlare un po' del ritmo anche visto che parlavamo di scrittura 6 di Corvi e Crooked Kingdom sono due libri molto diversi 6 di Corvi è un libro energico trascinante vorticoso dinamico rifocalizza il lettore ogni capitolo su un nuovo contesto su una nuova azione e non ti lascia il tempo dall'inizio alla fine di assestarti perché sai che ogni capitolo tutto verrà stravolto ha un ritmo molto incalzante senza mai essere diciamo troppo superficiale però diciamo che ti riempie di azione e l'azione porta chiaramente a una dinamica molto più veloce ecco noi poi ci spostiamo tantissimo geograficamente questo porta chiaramente anche proprio a moltissimi spazi nuovi a moltissime cose che dobbiamo conoscere eppure nonostante questo non è mai troppo descrittivo non è mai pesante nel dover ricontestualizzare ma comunque crea delle situazioni che sono secondo me estremamente vivide perché dipinge proprio i contesti dove ci troviamo e riesce a darci tutti gli elementi per ritrovarci nella storia quando poi balziamo invece a crooked kingdom la situazione è ribaltata noi siamo a catterdam e rimaniamo a catterdam dall'inizio alla fine quindi è un libro molto diverso ma è anche un libro dove tira le somme e quindi ha bisogno di un altro passo 6 di corvi era velocità dinamicità crooked kingdom è senza fare spoiler dobbiamo assolutamente trovare il modo di risolvere tutti i conflitti che si sono generati e per farlo ci vuole tempo ci vuole dedizione e ci vuole anche pazienza e secondo me il lettore può rimanere spiazzato ma secondo me è un passaggio necessario da fare avere un libro così dinamico e avventuroso a un certo punto ti porta a pagarne le conseguenze perché tutti i personaggi e tutta la storia hanno e avranno delle conseguenze e quindi tu le devi ricucire e ricompattare in un secondo volume che ha un ritmo molto più lento a me per certi versi crooked kingdom è piaciuto molto di più rispetto a sei di corvi sto dicendo la follia però per alcuni versi crooked kingdom contiene più scene chiaramente di introspezione perché quello che noi avevamo tinteggiato e dove sembrava che tutti i personaggi respingessero le proprie difficoltà si trovano in crooked kingdom a doverle affrontare a dover farci conti e quindi chiaramente hanno bisogno di più spazio per l'introspezione per anche decifrare ciò che si è venuto a creare i sentimenti le emozioni che provano le difficoltà che devono anche solo mettere sul tavolo e mostrare agli altri e quindi il ritmo chiaramente cambia moltissimo ciò non toglie che secondo me crooked kingdom è quasi migliore di sei di corvi lo dico nonostante sia un'opinione molto impopolare però insomma hanno due ritmi diversi ma ognuno va preso secondo me per il libro che vuole rappresentare per ciò che vuole contenere quel libro ah dimenticavo le prospettive il libro si svolge in sei prospettive diverse quindi seguiamo tutti i personaggi chiaramente c'è chi seguiamo di più tipo cazzo e chi seguiamo un po' meno però tranquilli perché tutto è molto contestualizzato e tutto è molto caratterizzato quindi sapete chi state seguendo soprattutto anche perché c'è sempre un narratore esterno non è mai in prima persona e Libera Dug è molto brava a gestire tutto ciò e sempre a bilanciare ciò che serve ma visto che abbiamo già tergiversato troppo passiamo ai personaggi quello che forse spiazza più di tutti leggendo Sadie Corville il motivo per cui secondo me è nettamente superiore a qualsiasi cosa si possa leggere per ragazzi sono i personaggi perché noi ci troviamo di fronte a un cast di sproveduti di disperati criminali che però finiscono per conquistarci il cuore nonostante non cerchino mai di essere volutamente buoni quindi il lettore non potrà mai apprezzarli fino in fondo però li può capire e questo secondo me è la chiave vincente per cui i personaggi risultano apprezzabilissimi perché è facilissimo capirli perché capirli è la chiave per contestualizzare tutto quello che sono le loro azioni in primis chiaramente noi troviamo Katz Brecker che è il leader è un leader però atipico innanzitutto Katz è disabile perché è zoppica perché non riesce ad avere movimenti fluidi porta perennemente dei guanti e non se li toglie mai non tocca mai le persone non ammette errori e soprattutto non ammette il tradimento quindi non perdonerà mai chiunque abbia agito contro di lui perché ha un vissuto che gli ha insegnato a non fidarsi più di chi non è dalla tua parte e Katz è un personaggio secondo me molto molto intenso e chiaramente è la superstar di tutta la serie perché c'è tantissimo spazio dedicato a lui e alla sua storia è anche il leader del gruppo e quindi Katz è un po' la chiave di lettura per muoverci all'interno di questo mondo è però anche una persona in grandissima evoluzione perché i suoi traumi lo bloccano i suoi traumi da un certo punto di vista lo limitano e lui non vuole averli e quindi deve cercare il modo per superarli e da solo non ce la può fare però c'è i drags e in questo caso è il personaggio forse più vicino fin dall'inizio a Katz è Jasper e Jasper è un ragazzo molto giovane molto più leggero anzi è proprio quasi il contraltare di Katz è impulsivo è assolutamente inaffidabile è molto volittivo perché va un po' con quello che succede si fa tirare si fa prendere in giro si fa raggirare lui stesso però ha un grandissimo talento per le pistole il pistolero migliore che esista e Jasper ad esempio compierà un percorso diverso da quello di Katz intanto perché deve conquistare la fiducia dei propri compagni e deve dimostrarsi più affidabile di quello che invece è la sua nomea e allo stesso tempo però è anche un personaggio chiave perché è un personaggio che porta molta leggerezza all'interno della storia Jasper è sempre pronta ad alleggerire il momento e a sfornare una battuta in modo anche molto fuori dalle righe e questo secondo me lo rende un personaggio perfetto in questo contesto perché mentre sono tutti più seriosi più introspettivi Jasper proprio riesce a tenere tutto insieme affrontare comunque i propri demoni ma alleggerire tutta la faccenda e questa cosa che bene gli si vuole detto ciò passiamo invece ai personaggi che noi conosciamo man mano abbiamo Inej Inej è una ragazza Sully che proviene dal territorio di Shuan fa parte di una minoranza che è stata perseguitata per secoli e quindi in lei vediamo una serie di risvolti che non vediamo negli altri personaggi perché ha un vissuto molto diverso ha un vissuto molto traumatico eppure Inej è il personaggio più affidabile di tutto Seid Corvi ecco lei che è silenziosa la chiamano lo spettro proprio perché lei è un killer un sicario che agisce nell'ombra in silenzio infatti forse il silenzio l'essere una persona molto in raccoglimento che parla solo al momento in cui trova giusto farlo non spreca parole inutili oppure interviene solo quando le viene richiesto la rendono proprio la roccia di tutto il gruppo Inej è la persona a cui tutti si rivolgono quando hanno bisogno di un consiglio quando sono disperati perché sanno che in lei troveranno un tipo di saggezza quasi materna quasi da chi ne ha viste troppe e non vi faccio vedere la mia piccola Inej fatta da Elena che in realtà sta diventando Michael Jackson però com'è carina scusatemi Inej è il mio personaggio preferito perché la trovo veramente molto solida anche con un vissuto come il suo alle spalle ed è chiaramente molto ferma nelle proprie convinzioni e non scende mai a patti con ciò che è fuori dai suoi valori ha un sistema valoriale granitico e non è disposta a scendere a compromessi per niente nessuno perché quello è ciò in cui lei crede e questo avrà tantissimi risvolti all'interno della vicenda e insomma si vuole troppo bene troppo bene ma poi passiamo a Nina Nina invece è un personaggio femminile molto diverso da Inej Nina è una persona vulcanica è una persona chiassosa che magari è continuamente ricoperta di briciole perché mangia di continuo e fa casino si spalma ovunque è una persona abbondante ma non in senso fisico anche in senso fisico ma quello non c'entra niente ma diciamo di quelle persone che senti a chilometri di distanza perché è una persona molto sicura di sé è decisa è di quelle che entrano in una stanza e attira l'attenzione di chiunque è chiaramente una persona che non passa inosservata e anche nel suo caso ci sono invece difficoltà ancora diverse rispetto ai personaggi precedenti perché Nina ha combattuto nella guerra che si combatte nella trilogia griscia quindi è l'unico legame così e quindi ha un trascorso recente molto fresco e che le creerà moltissime difficoltà e in questo caso Nina però fa da contraltare un po' tra tutti gli umori Nina è nel corso della serie forse il personaggio che crea più di tutti la componente emotiva del romanzo perché Nina è proprio il centro gravitazionale dell'emotività del romanzo soprattutto un certo tipo di approccio e come parlo di Nina senza fare spoiler non lo so fare e quindi mi limiterò a dirvi che chiaramente seguite ciò che fa Nina Nina intanto è l'unica griscia del gruppo e quindi è quella più in pericolo di tutti in tutta la situazione in cui si svolge Six of Crows però è anche determinata è fortissima è una persona che è molto altruista e pensa al bene degli altri ma sa che ci sarà sempre tempo per fermarsi a mangiare dei waffle e niente è un personaggio adorabile divertentissimo da un lato è molto leggero perché ha il suo spirito però vivrà anche grandi sconvolgimenti nel corso della narrazione che la cambieranno molto quindi niente a Nina non si può che voler bene per forza poi arriviamo a Wyland Wyland è un po' il ragazzetto del gruppo è quello più innocente probabilmente sì però è anche un ingegnere ok chiamiamolo così lui fabbrica bombe quindi nonostante sembri un ragazzetto smilzo innocente e tutto è un genio è veramente super analitico è veramente molto capace logico magari non è proprio il più coraggioso del gruppo perché non ha mai sperimentato un certo tipo di vita come hanno fatto gli altri o almeno non nelle stesse misure però chiaramente se si rivela fondamentale per tutta la loro impresa in più anche perché ci sono risvolti che lo riguardano che lo rendono molto molto prezioso Wyland è un personaggio dolcissimo tenero e in questo contesto sembra totalmente fuori luogo ma in realtà non ci metterà molto a sentirsi a suo agio in questo gruppo di sgangherati veramente e infine Mattias Mattias lo tengo in fondo perché è un po' quello fuori contesto gli altri comunque abitano tutti a Cetterdam chi ci è arrivato da pochi chi no Mattias invece è un fierda è un soldato fierda che si ritrova a Cetterdam per altri motivi e che rappresenta invece l'incompatibilità tra due culture il fatto di non poter accettare il diverso i soldati fierda hanno un'istruzione e una formazione rigorosissima insediano fin da piccoli ai bambini fierda ad odiare il diverso ad odiare chi non è come loro soprattutto i Grisha perché i Grisha i Grisha rappresentano le streghe i maghi il potere ciò che non è naturale per questo è sbagliato secondo loro ovviamente e quindi Mattias dovrà in qualche modo pur sentendosi costretto a essere in questa situazione ad affrontare cose molto profonde perché è un superamento proprio di una mentalità e di una cultura e quindi è un personaggio super interessante per questo proprio perché dobbiamo assistere in maniera non facile perché non è sicuramente una serie dove questo approccio e questo cambiamento avviene in un attimo perché è difficile cambiare queste cose ed è in questo il personaggio di Mattias è estremamente valido ed importante perché lì Bardugo riesce a rappresentare proprio ciò che viene respinto ciò che ci crea difficoltà non in maniera banale non perché c'è l'amore che dalla pagina prima alla pagina dopo con un bacio hai risolto e superato cose che vanno avanti da quando sei nato no perché cambiare la cultura è difficile e credo che il percorso di Mattias sia molto molto bello intenso ed interessante e quindi niente quindi questo sicuramente è un po' riassunto molto spicciolo dei personaggi abbiamo una serie di antagonisti mascosti un po' più alla luce mascherati che non conosciamo che incontreremo non manca nulla diciamo che se c'è una componente fortissima all'interno di questa serie sono i personaggi e la loro introspezione se voi amate la costruzione del personaggio questa è eccellente in questa serie chiaramente è una serie che fa per voi se non amate le cose scontate gli insta love le cose banali ma sono tutte costruzioni che hanno bisogno di tempo per maturare ecco e quindi secondo me a questo punto i personaggi di Lee Bardugo sono sempre mai inaspettati mai banali mai prevedibili perché fondamentalmente lo scopo di questa narrazione è ritrarre dei personaggi veri che affrontano le proprie difficoltà e che chiaramente le difficoltà non si superano con un bacio in un attimo oppure semplicemente diventando l'eroe nessuno di questi è un eroe vero ed è il motivo per cui a me piacciono molto perché di tutti loro vediamo i lati negativi ma anche i lati positivi e quindi riusciamo sempre a trovarci vicino a loro perché sono più vicini a noi perché sono un po' come noi hanno tante difficoltà tante cose negative però alla fine sono anche buoni hanno anche dei valori riescono a perseguire comunque un ideale positivo e fondamentalmente è solo questione di trovare il bilanciamento come ultimo punto mi tengo le tematiche perché credo che sia un po' come ultimo punto prima delle varie eventualità e minacce da farvi mi tengo le tematiche le tematiche all'interno di 6 di Corvi sono moltissime in primis come vi ho già ripetuto è la questione dei traumi personali e del vissuto personale come incide sulla nostra vita e come a un certo punto siamo obbligati o costretti a trovare il modo di superarlo possiamo anche non farlo ad abbandonarci alla disperazione oppure farci mangiare vivi dal senso di colpa farci mangiare vivi dalla rabbia dalla vendetta eccetera dipende sempre da che tipo di vissuto avete però tutti questi traumi che noi vediamo sono molto diversi tra loro e infatti è per questo che una tematica ne porta con sé tantissime ci troviamo davvero ad avere di fianco a noi queste persone che amiamo e che rispettiamo proprio perché ci sembrano simili chiaramente poi abbiamo a che fare con molti sottotemi ci sono temi molto forti in maniera molto delicata però che hanno a che fare con lo sfruttamento infantile che hanno a che fare con la violenza ma anche la violenza sessuale non in maniera esplicita e mai esageratamente dannosa però sono presenti sono cose di cui in questo mondo si deve parlare proprio per il contesto in cui vengono inserite non sono mai banali però ricordatevi sempre non sono mai banali mai grafici però sono cose che fanno parte di questo mondo e accostato a tutto questo c'è fondamentalmente la questione dell'odio dell'odio delle divisioni e delle divisioni tra razze e popoli che genera conflitti continuamente e chi subisce questo tipo di conflitti sono soprattutto gli ultimi più deboli quelli che non sanno come difendersi è tutto per dei giochi di potere per perpetrare una mentalità che spinge all'odio spinge all'odio chiunque ne faccia parte e non è presente solo in una cultura ma sotto livelli diversi sotto strati molto diversi colpisce davvero quasi tutti c'è chi ha preconcetti su chiunque c'è chi odia questo quell'altro perché ha dei pregressi in un modo o nell'altro insomma l'odio è una delle tematiche fondamentali in sottofondo e l'odio genera continuamente conflitti e traumi e questi traumi vanno poi elaborati in seguito e l'odio genera chiaramente conflitti su larghissima scala ed è la questione delle divisioni dei popoli eccetera ma anche in dimensione molto più ridotta quindi si parla del personale e l'odio il conflitto che si viene a generare in maniera più piccola poi porta dei traumi e il sottofondo è sempre questo del contesto si parla poi di conflitti familiari di ambiti molto duri parla chiaramente anche di resistenza perché fondamentalmente c'è tanto anche di questo dentro 6 di corvi c'è anche il tema non banale della droga e si parla anche degli effetti della dipendenza che non è un tema forse centrale ma è un tema molto importante di sottofondo però vediamo proprio come l'uso delle sostanze in questo modo e la creazione della dipendenza diventino un fattore fondamentale e una delle difficoltà più grandi da superare come non deve essere sottovalutato e come potrebbe diventare invece un'arma in mano di qualcuno che magari è malintenzionato la butto lì niente quindi insomma queste sono secondo me le tematiche principali poi ci sono tutte piccole trame sottofondo perché non bastano mai e niente io penso di avere evidenziato le cose più rilevanti penso di avere pochissime controindicazioni sulla serie una è quella di prima che vi dicevo sull'età se non immaginate che invece che avere 16 anni ne abbiano 5-6 in più 10 in più è difficile che vi possa piacere il libro perché vi rimandate sempre al fatto che abbiano 16 anni se superate quello è il libro della vita l'altra cosa che probabilmente riguarda più Crooked Kingdom è la staticità rispetto al primo quindi se del primo vi sentite trascinati il secondo sarà un ambiente molto diverso e in più alcune scelte del finale di Crooked Kingdom o della storia di Crooked Kingdom in generale lasciano molti porti aperti per la lettura di King of Scars e in seguito del terzo volume di 6 di Corvi che non si sa quando uscirà perché ancora deve uscire il secondo di King of Scars di cui nessuno ha ancora sentito parlare perché vabbè comunque in tutto ciò io spero di avervi dato dei punti cardine per orientarvi in questo mondo sappiate che personalmente vi dovete ritenere tutti obbligati a leggere 6 di Corvi e che sarà il prossimo titolo del Miss Fiction Book Club perché ne vale la pena beh sì sentitevi moralmente obbligati nei miei confronti a leggerlo questa è una minaccia sì non è nulla di altro insomma io ci tengo tanto perché secondo me è un titolo molto valido è molto interessante non è banale non è scontato non c'è l'installof non c'è nulla di quelle boiate che non volete più neanche sentire da lontano ci sono tante cose molto forti dentro 6 di Corvi e lo trovo molto originale per tanti motivi la trovo una serie estremamente estremamente originale che tratta temi attuali di cui abbiamo bisogno di sentire parlare in maniera neanche banale ci sono tantissime cose che rendono questa serie secondo me molto forte e quindi io la consiglio a chiunque quando spesso mi scrivete vorrei leggere un qualcosa ma ho paura che non mi piaccia perché non leggo fantasy da una vita non leggo libri per ragazzi perché mi sono stufata questo è la risposta a tutte quelle domande fatelo per me perché ve lo giuro si gioca la mia credibilità su tutta questa storia no a parte gli scherzi è una serie che secondo me è necessario che sia in Italia ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno che insomma tutti ci innamoriamo dei drags e di questi personaggi e niente io penso di aver detto più o meno tutto ripeto sentitevi obbligati a comprarlo da parte mia se no potete sashay away dal mio canale e niente no scherzo però mi farebbe molto piacere sapere chi di voi ci si approccia di recente chi l'ha letto da poco sapere cosa ne pensate mi raccomando ricordatevi che se l'avete letto e volete parlare di alcune cose giù nei commenti scrivete sempre spoiler in modo che chiunque approdi su questo video possa non avere rivelazioni involontariamente e niente io sono sempre pronta a parlare dei drags per ore giorni mesi anni insomma se volete sclerare io sono qui mi fate una persona felice molto e niente lo rileggeremo insieme quindi ci vediamo tra poco direi con la rilettura e niente direi che per oggi è tutto e ci rivediamo al prossimo video ciao